Paura ieri sera per il titolare della storica gelateria Martinucci di Santa Maria di Leuca. L'uomo, dopo una giornata di lavoro intorno alle 3.30, stava rincasando a bordo del suo scooter insieme alla moglie, quando è stato raggiunto nei pressi della sua abitazione da due individui armati di pistola e col volto coperto da passamontagna. I malviventi, con accento salentino, hanno intimato alla coppia di consegnare loro i soldi. Istintivamente l'uomo ha lanciato ai banditi il borsello che aveva a tracolla. Sotto shock, le vittime sono riuscite a chiamare i soccorsi solo dopo la fuga dei rapinatori. Il piano dei ladri però non ha funzionato come previsto, dal momento che il borsello non conteneva l'incasso della giornata ma era vuoto. Dei fatti sono stati informati i carabinieri della compagnia di Tricase che hanno ascoltato la testimonianza delle vittime e avviato le indagini. La coppia, oltre ad un comprensibile spavento, fortunatamente non ha riportato ferite. Questa è la seconda volta che Fabio Martinucci, proprietario insieme alla moglie della storica gelateria con molti punti vendita nel Salento, subisce una rapina. In passato, nel 2005, fu preda di una banda armata di quattro persone.